meno due al 5 novembre meno due alla serata nella quale il consiglio comunale deciderà il futuro prossimo della città di barcellona pozzo di gotto ma soprattutto dei cittadini barcellonesi dopo uno scontro mediatico fatto di comizi comunicati invettive accuse reciproche polemiche senza fine lunedì sera sarà il momento della verità fondo di rotazione sì fondo di rotazione no sarà il momento del dentro fuori piano di riequilibrio o dissesto i cittadini incrociano le dita e aspettano fiduciosi che dall'aula esca il male minore mentre l'amministrazione comunale i gruppi a sostegno si premurano attraverso note stampa di ribadire che il fondo di rotazione è un'opportunità da cogliere per la città l'opposizione fa quadrato e non vuole proprio saperne se da un lato si sostiene l'importanza dell'accesso al fondo dall'altro si afferma con forza come lo stesso potrà avere conseguenze nefaste sui cittadini per i prossimi 20 anni piuttosto l'opposizione concentra la sua attenzione sul taglio di eventuali spese superflue e qui la polemica divampa ancora e nel turbinio di polemiche finisce anche il teatro mandanici la cui gestione per le forze contrarie all'amministrazione ha portato a costi rilevanti dalla parte opposta l'esecutivo ne difende la gestione e le scelte e il meglio deve ancora venire perché lunedì sera c'è da starne certi si prospetta una seduta di consiglio comunale a dir poco infuocata grazie a tutti